Ennesimo weekend dai grandi numeri sul Gran Sasso. Anche in estate moltissime presenze in quota, camminatori, turisti provenienti da tutta Italia, ammirati dal paesaggio straordinario. I servizi in quota funzionano bene, bene l'ostello di Campo Imperatore, bagni puliti e sanificati in continuazione e anche alla base della funivia, tanti giovani e tanti eventi. Insomma, anche quest'anno è positivo. Se non fosse per il caos dei parcheggi in quota, frutto di un accordo diverso con la provincia, che non darebbe l'ok per chiudere la strada, e il consigliere comunale di opposizione Lorenzo Rotellini lo ha fatto notare. L'amministratore conferma che il problema esiste. È vero, c'è un'affluenza notevolissima, presenza da tutta Italia, tutti contenti perché il paesaggio è bellissimo. Purtroppo abbiamo problemi un po' di organizzare i parcheggi, ma c'è un caos per le macchine difficilmente gestibili. Ecco, perché il consigliere Rotellini ha fatto proprio un intervento su questo? Qual è il problema lì di gestione dei parcheggi? Il problema è che bisogna regolamentare l'afflusso e noi negli ultimi tre anni l'abbiamo sempre fatto con il personale del centro turistico, bloccavamo le macchine al bio delle fontari che stavano in contatto via radio, se c'era posto andavano su, sennò li facevamo mettere alle fontari e chi pagava il parcheggio saliva gratis con la seggiovia, quindi non impedivamo l'accesso al cambio imperatore. Però non c'erano macchine ferme lungo la strada, quindi non si creavano ingorghi, era tutto ben organizzato. Purtroppo quest'anno problemi che non dipendono da noi non ce l'hanno consentito di fare. E quindi quest'anno c'è un bel caos, un macello, perché la gente lascia le macchine a due chilometri a piedi, in mezzo alla strada, se capita un camper che scende con un'ambulanza che sale non si sa chi può passare. Ci si deve mettere mano però, insomma. Ma sì, basterebbe ripristinare quello che abbiamo sempre fatto, eravamo riusciti a mettere su un bel sistema e quindi purtroppo è così. Adesso stiamo nel caos, per il resto abbiamo organizzato i servizi, già il terzo anno, quindi sanifichiamo e puliamo due volte al giorno tutte le strutture, anche i servizi. Cerchiamo di essere, l'ostello funziona bene, insomma, sì. Insomma, riusciamo ad accoglierli, però ecco, c'è quel problema del traffico che è ingestibile. C'è quel problema del traffico che è ingestibile. C'è quel problema del traffico che è ingestibile. C'è quel problema del traffico che è ingestibile.